Amici di NewSmartMotori, ciao a tutti dal vostro Marco Tognoli Vi voglio parlare di una funzione interessante di questa Golf Si chiama ACC E in sostanza è un'opzione per quanto riguarda il cruise control che adesso attivo Come funziona? La attiviamo Io adesso tiro via il piede dal freno, come potete vedere E la mia auto sta frenando e accelerando automaticamente Seguendo la macchina davanti Vedete? Io sto frenando e il piede è via dal freno Fa tutto da sola, guardate Siamo fermi Riparte da sola E segue la macchina che precede Possiamo addirittura cambiare la distanza che vogliamo ottenere dalla macchina che ci precede È una funzione utilissima, comoda in città, tanto quanto in autostrada Vi ricordo che non è un'autopilota quindi bisogna mantenere sempre comunque la concentrazione Però vi posso dire che la sto provando in città ed è veramente una figata Guardate Fermo e io il piede ce l'ho praticamente via Non mi sto facendo nulla Al prossimo video dal vostro Marco, New Smart Motori Grazie a tutti